Beh dimmelo che metti in barro subito Qua, ma a metà, l'ho interrotto perché mi sono stato Ma adesso ti ripaga tutto Ciao Elisa Ciao Abbiamo la schiena a pezzi, questo cuore è un po' scopodo Eh ma speriamo che anche i lavaggi non vadano a pezzo Lo schiampo con questi qua no eh, non si può Gianti vai e metti uno sprezzetto No, vai ti dai intanto, prendo un sprezzetto No, noi scarichiamo Si sente babbari Dai Luca, ti do una mano a scaricare i lavaggi nuovi Gianti, piano Piano Gianti Madonna che forte che ti sei Che grosso Sono stati bravi su questi uomini eh Molto bravi Ho creato un spettacolo E ora Elisa Per come te se ti dico che ho fatto Lo porto, l'ivigare, il sistema Tutta parete Tutti i banconi E il bancongrano Bravo Lo scopo non c'è affatto Niente, non c'è affatto Fa così, fa così, fa così Gira Il direttore Il direttore Il 14 Aprile Dalle 19 I lavori conclusi Conclusi Materiale portato tutto all'interno del negozio Si tratta solo, come potete vedere, di sistemare il tutto Il 14 vi aspettiamo per l'inaugurazione Spero il tempo ci assista Lista E via